borraccia con gavettino svizzera anni 40 interamente in alluminio tappo in sughero con cordellino legato ad un anellino infisso nella borraccia borraccia da mezzo litro all'incirca loghi sul fondo gavettino inferiore al mezzo litro con tacche di graduazione loghi sul fondo forma ovoidale doppia maniglietta ripieghevole molto comoda spuntoncino probabilmente per adattarlo agganciarlo in qualche buffetteria all'interno troviamo una smaltatura color ocra molto ben conservato presenta graffie abrasioni piccole ammaccature data l'età oggetto ben costruito e di buona funzionalità